L'incidente è questa sera, mercoledì 20 febbraio, di fronte al Juventus Stadium. A scontrarsi una lancia delta condotta da un anziano, una Fiat 600. La lancia delta, dopo aver impattato contro la 600, ha urtato il cordolo del marciapiede, la segnaletica stradale e si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Torino, il 118 e la polizia municipale. L'uomo che si trovava sulla delta è rimasto ferito ed è stato trasportato al Maria Vittoria, il laser conducente della 600, la dinamica e il valle della polizia municipale. L'uomo che si trovava la propria di Torino, la spazio di Torino, il l'uomo che si trovava la propria di Torino, la scontrarsi di Torino, la scontrarsi di Torino, il centro di Torino, la scontrarsi di Torino. Spazio di Torino